Tutti fotografi. Oggi siamo diventati tutti fotografi. Scattiamo di continuo. E tutto quello che fotografiamo, la maggior parte di quello che fotografiamo, ha a che fare con la felicità, l'ostentazione della felicità, o come nella maggior parte dei casi, con la ricerca della felicità. Ma nessuno conserva la foto della porta attraverso la quale la tua ragazza t'ha lasciato. Nessuno conserva il ritratto del capo che ci ha licenziati o la foto del miglior amico che ci ha traditi nel momento del bisogno. Non le catturiamo perché non le vogliamo ricordare. Che cazzo le vuole delle istantanee dei propri fallimenti? Una volta in un film ho sentito che ci vogliono circa 226 chili per frantomare un teschio d'uomo. Ma le emozioni umane sono una faccenda molto più delicata. Grazie a tutti.